Quasi tutto pronto per la diretta del Palio Marinaro, siamo ovviamente a Porto Santo Stefano, comune di Monte Argentario. Noi prima di farvi vedere appunto questo bellissimo spettacolo vi vogliamo anche un po' far vedere che cosa c'è dietro le quinte appunto di una diretta televisiva per noi davvero così importante. E allora vediamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!